con cattura il tracciato eliminiamo tutti i punti di controllo e li rimperziamo con una copia di punti ancora del tracciato che abbiamo creato nell'immagine dove abbiamo evocato lo sposta tracciato ovvero il movi tracciato praticamente abbiamo creato un tracciato nel frame di destinazione e noi lo andiamo a catturare e praticamente i punti correnti non sono altro che i punti ancora del tracciato se quando andiamo a catturare teniamo premuto il tasto shift il tracciato seguirà le curve di bezier del tracciato che abbiamo creato